Musica Ieri sera al bar centrale hanno detto E non faccio nomi Che contro il Guastalla basterebbe un pareggio Un caso Oh, statemi tutti bene attenti Io voglio che la Borgo Rosso Football Club Questa squadra che io ho sollevato dalla merda della categoria di lettanti Fino alla soglia della promozione Entri a testa alta nella categoria superiore Abbiamo solo due partite Tutte e due fuori casa In terra nemica Dobbiamo vincere Ad ogni costo Anche a costo sbreghè State attenti e ricordatevi Che quelli del Guastalla non sono dal burdello Perciò niente storie Niente tattiche di attesa Niente pugnette Vincere Puttana della miseria Presidente, cosa c'è? Ma siete matti? Ma cos'è la vostra frenata? Dottore Ma perché vi siete fermati? Ma sorrenti, venga qua Cosa succede? Cosa c'è imbezzilli? Il Presidente si è sentito male Il Presidente, ma cosa succede? Avevo detto di restare a casa quel pestone Signore mio Dio Descenda su per vosso E mani a sempre Amen Amen Permesso? Sono Benito Oh, caro Benito Permette, Monsignore? Ero in tipografia A parer mio Il primo foglio della serie Sacerdozio ha un colore Troppo acceso e troppo forte Se permette Io vorrei bruciarlo Perché non vada in mano Di qualche speculatorio Bravo Benito Brucia, brucia Ma accomodati Stai pure Non è di questo che ti volevo parlare Ti ricordi Di Don Ragazzoni? Ah, già, già Tu hai lasciato la Romagna Che Don Ragazzoni Non aveva ancora preso gli ordini Trent'anni fa Partì da Borgo Rosso di Romagna Il borgo natio di E tuo padre? Sono trent'anni Che non vedi anche lui? È dal 46 Che non lo vedo, Monsignore Quando avevo la scarlattina Me lo ricordo vagamente Perché avevo la febbre alta E lui si fermò pochi minuti Per non incontrare mia madre Lo sa che mia madre e mio padre Benito, è giunto il momento Di dimenticare certi malintesi Non sono malintesi, Monsignore Ma dei fatti concreti I torti di mio padre Io non li posso dimenticare Benito, pochi minuti fa Mi ha telefonato Don Ragazzoni Per dirmi che tuo padre È stato colpito da un infarto Non è la prima volta Però Forse potrebbe essere l'ultima E in questo momento Il tuo preciso dovere di figlio E di Cristiano Il tuo posto È di stare accanto a lui E Devi convincere anche tua madre Ad accompagnarti, figliolo Io posso anche dimenticare I torti subiti Ma mia madre no E sono sicuro Che lei non metterà più piede In quella casa Dove è stata tanto offesa E umiliata Se non ti sbrighi Cretino Quella vacca si frega anche le lenzuola Quanto le devo? 4.900, dottor Va bene Mamma 4.900 Grazie, dottor Tenga pure Grazie Ciao caro Buongiorno a tu Alla rimaccia tua Ci vengono pure dal Vaticano Ci vengono pure Ma che gli hai lasciato le cento lire Mamma Sono andate nel tombino Ah Si paga? Vedi Quello è il monumento all'eroe baracca Ah si lo so mamma Mi ricordo Era nei quaderni di scuola mamma Fiorente la campagna qui Vero mamma? La frutta è meravigliosa Infatti la buttano Sono chilometri che facciamo mamma Non abbiamo trovato un cane Davvero Nessuno Non un cristiano Ma dove saranno tutti mamma? Ma E ci lo sa Dov'è la gente? Hai ragione Ci sarà un'epidemia Ecco Siamo arrivati Questo è Borgo Rosso Ah Anche questo è un paese deserto Ma dove si saranno intanati tutti mamma? Ma Siamo arrivati Camillo Fornaciari Chi era mamma? Il bisnonno rivoluzionario Mamma Permesso? Permesso? Il vecchio studio del papà Sai mamma Non lo ricordavo a pianterrino Mamma 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 Ma qui non c'è nessuno Forse l'avranno portata all'ospedale Oppure due ragazzoni ha esagerato Mancherebbe anche questa Che sia guarito Sai mamma Che la casa non la ricordavo mica Così grande Bella Calda Accogliente Odio questa casa Il babbo mamma Sì E che cos'è E che cos'è? Una salumeria? Disgustoso Dici? Non c'è nessuno? Permesso? Senti che odorino Mamma Ma che fai? Sfido che gli vengono gli infarti Guarda che salama da su Ma non ti vergogni? Sipione? C'è qualcuno mamma Un po' Sipione Scusi reverendo Dica La signora Amelia Cara lasci stare Ma allora tu sei Benito? Sì Non ti ricordi di me Benito? Sono Don Ragazzoni Benito Caro Don Amleto Che piacere rivederti Assomigli moltissimo a tuo padre Sai Meno male che sei dovuto in tempo Meno male Ma dov'è? E di sopra purtroppo Porre che questa volta sia la volta buona Io volevo Benito che voi faceste la pace Tuo padre è un bravo uomo Per fortuna che siete arrivati in te Gliel'avevamo detto di starsene buoni Ma è molto grave Purtroppo figliolo mio Tuo padre è il cuore stanco degli uomini passionali Oh Sipione come andegna? Male sempre uno zero Noia la vigliacca Che c'è? C'è che stiamo perdendo Ma chi saranno? Ma la moglie è un figlio A destra signora Venito Venito Vieni Vieni Certo la casa dopo tanti anni Se permettete vi faccio a strada Scusate Da questa parte Cos'è? Ecco torno in cronaca E perché? Allora sto proprio male Se è arrivata la cornantia A muoverti Il tuo posto è qui Signora Amelia Per l'amor di Dio Ma dove va? Non l'ha vista? Quella svergognata Sì l'ho vista ma le sembra proprio questo il momento Scusi Meraviglio di lei ma che dice Torno dopo trent'anni e la trovo ancora lì Come? Ma quella non è la Dalgisa Ma no la Dalgisa poveretta è morta da tanto di quel tempo È stato l'anno che la Fiorentina ha vinto il campionato per la prima volta Si figuri Quella lì l'Erminia la nipote Scusi un momento Pronto con chi parlo? Ah sei tu Pasolini dimmi Poglia d'una miseria Un'altra linea laterale a fondo campo Trossa Trossa un magnitico pallone Giorgetti Giorgetti secondo è uno strutto Sai che è? Niente cosa vuol che ci sia? Non fai gesuita Cos'è che sgarci che? Oh Amassa il celerino a pareggia No Eh Ma ha telefonato Pasolini adesso e mancano pochi minuti alla fine Porca miseria Insomma Se non pareggiamo siamo fottuti Addio promozione Erminia Sì Di Eclenbastelli dell'allenatore Di far uscire Giorgetti il secondo Fai entrare e passa l'acqua Piedrino Fai uscire Giorgetti e fai entrare e passa l'acqua Senti quello che dice Eh? Il presidente che vuol dire fare prese Senti quello che dice No no Il Giorgetti il secondo non lo cambia Se non lo cambi tu lo cambio io Ma l'allenatore sono io E non posso più mettere Sei una bestia Senti di c'ha ragione lui Sforza Sì presidente Sì presidente Alzati su Scaldati bene Conditelo tutto Ecco così All'attacco in Baccell Ecco appena entrato in campo Passerà che si chiedono alla mischia Permette signore Sono il ragionier Braglia Mi occupo dell'amministrazione Ma di che la smetta di dir pataccate Non facciano resta al centro Allarghi nel gioco Così non passeranno mai Va bene presidente Trasmetto l'ordine all'allenatore Tu saresti benito Sì Ma come sei bianco Ma sei ben brutto Vabbè Goal È gol Passalacqua ha segnato Bravo presidente Hai visto giusto presidente Evviva il porco rosso L'abbiamo fatta Fatta un cazzo Sencerino è pareggiato Siamo a pari punti La battaglia è decisiva Dobbiamo ancora combatterla Domenica prossima Si decide il campionato Vado io in panchina Vi faccio vedere No Oh figliac la miseria Porca vacca schifosa voglia Pronto? 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 Cosa c'è? Il presidente Non dice più niente Se sei in grado di capire Io ti assolvo dai tuoi peccati Nel nome del padre Del figliolo E dello spirito santo Amo Sì sì In sesta pagina E con il maggiore lievo tipografico possibile E l'istata lutto Mi raccomando Signore mi scusi Un minuto Una telefonata La servo subito Porti pazienza Il titolo La morte di Libero Fornacciari Valli Presidente del football club Borgo Rosso Sì Il testo Con Libero Fornacciari Valli Scompare un grande sportivo Una figura esemplare Del calcio romagnolo Industriale illuminato E di successo Aveva profuso Tutte le sue energie E tutto il suo entusiasmo Per potenziare Il Borgo Rosso football club Nell'animo di tutti gli sportivi Oltre un gran senso di voto Per la dipartita Del suo presidente Urge una domanda ansiosa Chi prenderà il suo posto? Chi sarà il nuovo presidente Delle zebre bianco nere Del Borgo Rosso? E anche noi ce lo domandiamo Chi sarà? Io Io glielo assicuro ragioniere Non ho mai visto una cantina così bella Le botte erano la grande pressione Di suo padre Insieme alla squadra di calcio E anche insieme a... Le vi capisse Vero professore? Sì, sì La capisco perfettamente So a cosa allude Anzi a proposito Mi dica ragioniere Sì? Quella donna Lei sa di chi parlo Vero? Vuol dire dell'Erminia? Sì, quella Erminia Penso che sarebbe il caso Di farle capire Che qui lei Non è più gradita Però professore Non so se sarà facile sostituirla Vede Queste ragazze Hanno un rendimento eccezionale Che ha permesso Il rilancio dell'azienda Perché Mentre suo padre Si occupava solo Della squadra di calcio L'Erminia Mandava avanti la cantina Ecco professore Questo era il suo ufficio Sì? Prego Vede? Vedo, vedo Ma sembra più la sede Di una società sportiva Che l'ufficio Di un'azienda vinicola Guardi lì com'era felice E quando il Borgo Rosso È entrato in promozione Ma è da loro Che sono cominciati i guai Prima uno Con dieci milioni Se la cavava Dieci milioni? Le sembrano pochi Molti Ma allora guardi qui Suo padre ha speso Niente meno che Trenta milioni Per comprare Queste tre tanghe Ma è una follia Ma certo che è una follia Ma lo vado a dire Un po' ai tifosi del Borgo Rosso E qui il paese Sono tutti tifosi A cominciare da Don Regazzoni Che la domenica Dice la messa Scappa e fuggi Per poter correre A vedere la partita Ma lo sa Quanta montano i crediti Di suo padre Verso il Borgo Rosso? No 157 milioni Avanti È permesso? Scusi Dovrei parlare Con il signor professore Di cose private L'aspetto di là professore Se crede Possiamo fare un salto Alla cassina di Tredazio Prima di correzione Quello che devo dire Al signor professore Non gli farà perdere Molto tempo Prego Si accomodi No Preferisco rimanere in piedi Senta professore Lei sa chi sono io E sono certa Che sa quali erano I miei rapporti Con suo padre No Veramente? Sono stata la sua donna Per vent'anni E gli ho voluto molto bene Ma sono stata sempre Al mio posto Sapevo che aveva Una moglie e un figlio E che un giorno L'Erminia Se ne sarebbe dovuta andare È la legge di questo paese Ma non mi lamento Sono stata felice Con suo padre E lui con me Però adesso Se la mia presenza Le dà fastidio Non ha che da dirmelo Me ne andrò anche di qui Cara signorina Lei mi ha parlato Con molta franchezza E molta sincerità E io Devo essere altrettanto franco E altrettanto sincero Sì È vero Poco fa Dicevo a ragione Erbraglia Di volerle informare Che lei qui Non era gradita Ma entrando in questo ufficio Ho cambiato idea Adesso sono io Signorina che le dico Sarei felice Se lei rimanesse qui Al suo posto D'accordo A fatto che lei Non mi chiami più signorina Va bene Come vuole Beh Che cosa fate ragazze Al lavoro Sono 24 ettari di terreno E nella colina esposta a sul Sono tutti i vigneti Oddio certo Dovremmo rinnovare le vite Suo padre Non aveva già parlato Per avere il contributo Del piano verde Con Bulgarelli Bulgarelli dice Mi ricordo questo nome Salumi Ficcio Bulgarelli E' diventato sindaco Quello vede professore Farebbe carte false Per diventare presidente Del Borgo Rosso E perché? Oh per vanità Per ambizioni Per interesse Ma anche per ragioni elettorali Suo padre poteva diventare deputato Con la popolarità che aveva Senta com'è buono questo vino Profuma di mare e di ginestra Come diceva il suo povero Babbo Ah senta A proposito di Babbo Ma lei mi assicura ragioniere Che il Borgo Rosso Pagherà questi 157 milioni? Sicurissimo Li ha già pagati Vede Il Borgo Rosso È O meglio Era Di proprietà di suo padre Ed è suo Perciò lei è creditore Verso se stesso Di 157 milioni E beh ma allora una beffa Lei tasti il terreno Con Bulgarelli E se lui a fine campionato Rileva la squadra E io ci sto Se lei mi autorizza Io trattamo I consiglieri che cosa dire Ehi non si preoccupi Ragioniere Pensi a vendere la squadra Che agli altri ci penso io Il ragioniere Bragli è uno stronzo Te lo dico io Ma questi che fanno? Beh si allenano La partita di domenica prossima È decisiva Se si vince Andiamo in serie D E tutto questo L'avrebbe costruito mio padre? Tutto Tutto Ogni centimetro cubo di cemento Ed ogni salla d'erba Tutta opera sua Lo immaginavo diverso papà Cioè? Cioè diverso Cosa volete che vi dica? Vuoi conoscere i giocatori? No Che conoscere Sono tutti sudati E poi Che potrei dire io A giocatori? Ah senti Benito Domani c'è una partita Che vinciamo di sicuro Andiamo in serie D E la squadra vale il doppio Perciò devi dare un grosso premio di partita Un premio? 100.000 lire a tappa No 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 Aspettate Ragazzi ragazzi Venite qui Sotto Sotto 100.000 lire a tappa 100.000 lire per uno Va bene Prego prego Fare fare Per carità Anche lei in lutto? Io sono partiere Ah mi rallegro Grazie professore Prego prego Grazie Andate Andate Ah me la sto cavando benissimo Sai mamma Non avrei mai creduto E non avrei creduto Che i vigneti fossero così belli Sai? Li conosco Ma quella donnaccia Ma quella donnaccia L'hai licenziata? No mamma non ancora Devo essere prudente Devi cacciarla Sì mamma La licenzierò Al momento opportuno Stai tranquilla Adesso sai mamma Devo preoccuparmi della squadra Ah Il sindaco farebbe carte false Per diventare presidente del Borgo Rosso È una mania Ma io la faccio soffrire Mamma La cosa è sorprendente È che sto diventando un furbacchione in affari Tra poco torno a Roma Sposo Alice E vi porta a fare il giro del mondo Voglio che tu sia ripagata Di tutti i sacrifici e i torti che hai subito Ma perché parli così? Ah C'ho una caramellina in bocca Non mangerai mica troppo eh Stai attento alla cucina di quelle parti È una cucina grassa Pesante Tu col tuo fegato poi Ma certo mamma Stai tranquilla La sera una minestrina in brodo Un uovo alla cocca Prugna cotte Sì grazie che me lo hai ricordato Lo dirò a tuo padre Prugna cotte Prugna cotte Ciao figliolo E torna presto Prestissimo eh Non preoccuparti mamma Telefona tua ad Alicia Dille che la penso tanto Ciao bacione a tutti mamma È una bottiglia di San Giovese del 54 È una squisitezza Sì fammi sentire Beati gli invitati alla mensa del signore Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Oh signore Non sono degno di partecipare alla tua mensa Ma di soltanto una parola E io sarò salvato Avanti chi vuole fare la comunione Dai sbrigati tu Sì sposti E che è? E che succede? Avanti presto Il corpo di Cristo Per piacere signore Avanti un'altra Il corpo Il corpo di Cristo Vada via signore Avanti Il corpo di Cristo Vada via signore per piacere Andi là Femi piacere Presto Vada vada Io vado Don Omeletto Ci vediamo allo stadio Vai vai fiolo vai Scusi reverendo Mi permette un'osservazione Ma lei non celebra una messa Lei corre Corro Corro sì Non li senti quegli scalmanati là fuori Cosa vuoi che rivitardi Quando la partita è già incominciata? Ma una messa Sarà più importante di una partita No? Certo che è più importante Io la ricco ridotta Sì Ridotta sì Ma non saltando le pagine Perché lei leggendo il Vangelo Secondo San Matteo Punto 10 1622 Beh Io vi mando come pecore In mezzo ai lupi E saltando niente di meno Al fratello Dar a morte il fratello Beh che cos'è figliolo Non mi vorrei mica raccontare Che sai tutti i santi evangeli A memoria Sì Tutti Ah Allora vorrà dire Che la prossima volta Dovrò stare più attento Andai benito Va là Insorgeranno i figli Contro i genitori E li metteranno a morte A morte l'arbitro A morte Vado in campo Sai se qualche giocatore Va bene Ecco benito Questi sono i nostri polli Attenco Dove? Vieni Ti voglio presentare Il signor Armando Presidente del Celerina Ah Benito E che vincere il migliore E chi è il migliore? Con il Celerino Naturalmente Ma che fa questo? Maldite il presidente Questi applausi sono anche per te Bravo Forza Forza Amassalo Amassalo Forza Forza Ma che è successo? Ma che è successo? Abbiamo segnato Mi dispiace 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 E levati con gli occhiali neri Ti ho detto che l'avresti portato a scarro Giuseppe Giuseppe C'è il bello C'è il bello Sei tifoso anche tu Ma va Ma questo non è un bambino È un attenzio Venite entusiasti Forza 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 Contro attaccato Che cosa c'è fatto male? Che cosa c'è fatto? Ma tol fura Arbitro Che di quel calè? Fori 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 Prevenendo Quando si fa male un giocatore Che succede? Da un po' di tempo Secondo il nuovo regolamento Quello può essere sostituito Con un giocatore fresco Forza 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 Che parlo il cattino? Gol Un gol così Non si vedeva Che è? Un gol così Non lo vedevamo da anni Ma cos'è? Vuoi prendere il cuore? No No Entusiasmo sportivo E' lo sfogo degli stitti animali E' scherzo E' scherzo E' scherzo E' scherzo E' scherzo E' scherzo Ma ce ne stiamo andare Revenendo Ma dove vuoi andare? Ma via Ma via Ma che ci stiamo fare Passa Tanto abbiamo vinto Ma non abbiamo vinto Manca ancora un tempo In che modo vivi? Tra poco finisce il primo tempo Attento Via quella palla E' una lavata di testa A quel pecorone Andiamo giù negli spogliatori Sì andiamo Mettiti qui Dove è venuto Ma ce l'hai Ma lo commetto Vedrai che culo Ti facciamo Dica mamma tua Mi siete fatti fare Un culo così La scalzone carognone Pezze di merdo Asino E lei stia Zitto A te ciancolini Ti ha fatto andare In bambola Non voglio vedere niente Ma meno anche tu E stendilo vigliacco Stanchi eh E lei cosa sta a guardare Cosa crede Di aver vinto Vedrà che Rasse di culo Le farebbe Ma non avete altre parole? Sudati eh Uno sforzo tremendo Mi levi una curiosità Signor arbitro Perché lei corre tanto? Potrebbe evitare di correre Non è più comodo Stare su quei seggioloni Come al tennis per esempio Ma lei è la prima partita di calcio? Sì è la prima e l'ultima Guardi prego Si accomodi allora Si accomodi pure Si 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 accomodi Tenete l'avversario Sempre sotto controllo Il grande segreto del calcio E' qua Chirino Oh Ma l'ho trovato Se l'ha andata a cacciare Negli spogliatoi del celerina Quello lì Di due parole ragazze Io E che devo dire Tanti auguri ragazzi Ma cosa dici Disgraziato E non lo so Che devo dire In bocca al lupo Ma no Ma no Ci dici il culo alla balena Gira gira Sempre sto culo Forza ragazzone Forza Forza Andiamo 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 Forza Muoversi Forza Dai Dai Andiamo anche noi Non c'è Ehi 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 Stai Ehi Ehi Che fa Ecco Fesso il distintivo Ma in maniera questa Ti assistono a una partita di calcio Ma la partita di calcio È un'altra partita di calcio Torno presto, sai? Ho tanta nostalgia di voi tutti Anch'io? Che fai in quella pianura? Sai, lo dio Monsignore, ieri ha chiesto di te Caro Monsignor Montanari, salutala molto caramente Sì, certo Benito, posso fare qualcosa per te? Vuoi che ti raggiunga? Se vuoi, posso chiedere un permesso speciale alla coce rossa No, dici? Meglio di no? Benito, non mangiare troppo e non bere, eh, mi raccomando L'hai licenziata quella? No, ma non ancora Perché adesso la cosa più importante è sistemare la squadra del Borgo Rosso Football Club Con la vittoria di oggi poi è passata nella categoria superiore Se il sindaco Bulgarelli vuole diventare il presidente Mi deve sforzare più del doppio di quello che ha speso il povero Babbo Tu pensi solo ai soldi, ma sei proprio sicuro che abbiamo vinto? Nel primo tempo vincevamo a 2 a 0, nel secondo tempo figurati, si saranno scatenati La lascia ora Eccoli mamma, stanno arrivando, ti lascio Eccomi amici, venite, brindiamo la vittoria Che fate lì, venite su Quanti gol abbiamo segnato? 2 Bene E il Celerina? 3 Bene Ma che abbiamo perso? Sì Ma li mortacci vostri Dunque, veniamo solo So che lei ha parlato con il ragionier Braglia Sì, il ragionier Braglia mi ha detto che lei vorrebbe disfarsi del Borgo Rosso Disfarmi non è la parola adatta Semmai io voglio cederlo naturalmente a persona degna di poter subentrare al mio povero Babbo Credo modestia parte di esserlo e spero che nessuno ne dubiti Per carità Dunque, ho studiato la cosa con il nostro ragionier Braglia Sono disposto ad accettare la presidenza del Borgo Rosso Football Club Assumendomi tutte le responsabilità della gestione della società Bene Naturalmente dal giorno della morte di suo padre in poi Come dalla morte? Per il passato? Per il passato ci mettiamo una barra a pietra sopra Ma che pietra sopra? Mio padre ha speso una fortuna Soltanto per gli spogliatoi, le gradinate, la tribuna centrale, 50 milioni E per la squadra, solo 3 giocatori l'anno scorso Cocchia, Furlan, Bordon Sa quanto spesso? 30 milioni 30 milioni? 31 sull'A Ma che lo dice? Lo dico io che me ne intendo Ma i consiglieri invece dicono che sono molto bravi Lascia dire professore Lei è circondato da incompetenti, da sanguisciughe che la sfruttano come sfruttavano suo padre Io le parlo onestamente E per dimostrare la mia simpatia le faccio un'offenza di 10 milioni 10 milioni? Ma neanche il costo del terreno, andiamo Il terreno? Ma il terreno, caro professore, del comune Del comune? Certo E per ogni opera hai visto un regolare atto di donazione No, si, 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 ha ragione lui E pensi che figura ho fatto io col sindaco Bulgarelli Ma lo sa ragioniere che neanche il terreno è nostro E suo padre era affezionato al suo campicello per ragioni sentimentali E non ha badato E non ha badato Mio padre era affezionato al suo campicello per ragioni sentimentali E invece io no E poi lei, scusi, le cose importanti non me le dice E questo chi è? Mi dice soltanto che abbiamo bisogno di finanziamenti per rifare i vittime Permettete? Sono Valentino Zucotto, vecchio amico ed estimatore di vostra parte Ah, lei vuol parlare con il ragionier Braglia? No, 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 il ragionier Braglia, mi scusi, non lo voglio vedere manca in fotografia Io sono qui per parlare con voi, professore Ma di che cosa scusi? Io e il vostro povero babbo avevamo preparato un piano per il rafforzamento della squadra Senta, non mi parli di calcio, io ne ho piene delle scatole Ma nessuno può capirvi meglio di me Sono vent'anni che mi occupo della compraventità dei giocatori Perciò lasciatemelo dire Conosco perfettamente questi stati, diciamo così, depressivi Ma poi passate il momento della rabbia per la sconfitta, l'opossione No, il calcio mi fa schifo Socialmente però è una valvola di sicurezza Il calcio fortunatamente non è ancora nella lista delle droghe Speriamo che ce lo mettano presto Comunque guardi, io non ho nessuna intenzione di comprare E nemmeno di vendere? Come vendere? Lei ha un parco giocatori, la maggior parte sono delle schiappe Però se lei mi autorizza potrei cercare di vendere quei 4 o 5 che sono meno schiappe Chiude la porta per favore Ma come qui si possono vendere i giocatori e lei non dice niente? Ragioniere! Ma a me il calcio mi fa schifo Ma che fa? Ripete? Zuccotto, la prego Sei straordinario, Benito 32 milioni per 4 ragazzotti È incredibile E questo è niente, mamma Il Zuccotto, che è veramente un esperto e un amico Mi ha promesso che mi trova da vendere anche uno dei terzini Brigati, Benito, ritornare a casa E quella là poi, l'hai licenziata? No, mamma, non ancora Mamma non è una cattiva donna È molto utile in ditta È una gran lavoratrice, sai? È una puttana Mamma, non ti ho mai sentito dire queste brutte cose È una puttana, puttana Puttana, puttana, puttana A lui non gliene frega niente, gli basta far quattrino Ma non è possibile Pierino ha già telefonato le notizie al giornale Domani la legge Ma di cosa state parlando? Benito ha venduto Bondavalli, ci rompe, non si è gara Ma è un passo No, è un mascalzone No, quello è un sabotatore Ha rovinato una squadra che stava per andare in promozione Ma non gliene si può impedire Ma che è impedire, impedire Quello ha il coltello dalla parte del manico La società si vuole fare quello che vuole La colpa di Bulgarelli che non ha cacciato i soldi Me l'ha detto il ragionier Braga Bulgarelli è un sacco di merda Cosa vi aspettate da quella mazza porci? Costituiamo una società per azioni Ci quotiamo tutti e ricompriamo i giocatori Ma è inutile illudersi Per il Borgo Rosso è finita Ci vorranno cinque anni prima di rimettere No, no, non bisogna arrendersi Bisogna fargliela pagare quel gesuita Hai sentito? Il presidente ha venduto i giocatori più forti Ma è un cretino Va contro i suoi interessi Mi hanno telefonato adesso da Bologna e dal giornale La notizia è sicura State tutti a sentire Amici Amici Con cittadini La Lega Nazionale Poiché la Commissione Medica Ha trovato nelle urine dei giocatori del Celerina Tracce di anfetamine Ha in virtù dell'articolo 8 decretato Che il Celerina Football Club Venga penalizzato di 10 punti No, 10 punti Bene, bravo Intanto Il Borgo Rosso passa in testa la classifica Ed entra di diritto Nella divisione superiore Bene, andiamo Torna ad avvertire il sindaco Signor sindaco Signor sindaco Che c'è? Il Celerino è stato squalificato Il Borgo Rosso promosso Mi prenderei a schiaffi Potevo avere il Borgo Rosso per un pezzo di pane A schiaffi mi prenderei Mi prenderesti a schiaffi, eh? Il sogno di Libero Fornacciari È diventato una realtà E lì no! Razzini Ma se i giocatori più forti non ci sono più Eh già E adesso abbiamo una bella squadra per la serie D Maledetto Sì, è vero Ve l'avevo detto che bisognava buttarlo fuori a pedate Ah, sono proprio soddisfatto ragioniere Che le cose le abbiamo sbrigate così rapidamente bene E questi ragionieri chi sono? Boh, deve essere qualche comizio volante No, no Questi ce l'hanno con noi Io tiro su Con noi? Sì Che volete? Non capisco Cosa dicono? Lo stanno insultando il professor Dicono delle parolacce A che vogliono? Ve ne approfittate perché sono tutto qua dentro Prendetela con il sindaco Bulgarelli No Perché non gli stiega lei ragioniere? Sì, sì Fermatevi, fermatevi! Dove andai? Oh mio Dio Ovvio mamma mia ragioniere Questi sono imperiusciti Ci pensi lei ragioniere? Io scendo dalla casa Mi parte lei Permesso? Fermi! Scusi lo signore, permesso? Permesso? No Mi sono ritornata in voi Fermi! 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 Presto! Presto! Sprengate la porta e non fate l'entrata! Dov'è il telefono che devo chiedere l'infanzo? Tu sei entrato! Prevento, ha visto il presidente? No, cerchiamolo! Pronto, casa fornece alle valle? La casa di tuo padre sarà la tua tromba, l'inghia! Dov'è il prestito? E a me lo chiedete? E lei che deve difenderlo, no? Quello se lo prende non l'inghia, no! Ho sparito! Sparito, cercato! Non tornerai a Roma col carbone per i mister franschi, po' l'inghia! Mi ordino ad interrompere la linea, sono il maresciato! Anzi, venite! Si quasi di dietro! Vai via! Venite! Noi passiamo di qua! Pronto! Pronto! Non c'è nemmeno in gattina! Forse di sopra! Cercatelo di sopra, allora! E' finito! E' finito! Venito, dove vai? Erminia! Erminia, vado a prenderlo! Presto, venite! Chiudete la porta! Erminia! Presto! Erminia! Chiudete! Chiudete! Passate i cervelli! Professore, venga fuori! Lo so che è qui! L'ho vista salire! Professore! Chiarello! Paralo su un posto! Eccolo, signora! Professore! Ma cosa fa lì dentro? Che faccio io qua dentro? Voi mi ci avete messo? Io non so niente! Che vogliono quelli là fuori da me? Lei è un disgraziato inconsciente! Vuol far scoppiare la guerra civile! Io non voglio far scoppiare niente! Siete voi tutti matti! Io che centro! Ma venduti i giocatori! Certo, erano miei! Li ho ereditati da papà! Per l'ultima volta! Indiegio o spano! Indiegio! 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 E per quattro scartinati giocatori si fa la rivoluzione! Ci amassano tutti! Ci amassano tutti! Hai paura, eh? Ma riteresti veramente che ti dessero un sacco di botte? Ma perché sei un pusillanime! Ma la colpa è mia! Non dovevo lasciarti crescere in mezzo a quei bretaggi! Papà, ma che devo fare? Ricorda il nome che porti! Affacciati al balcone! La folla è femmina! Ama farsi fottere! Uomini e donne di Borgorosso! Generosa e fedele! Ascoltatemi! Ascoltatemi! Vi parlo a nome di mio padre! Un gruppo di traditori nascosti nell'ombra vuole impadronirsi della gloriosa squadra che fu del mio grande, illustre e indimenticabile genitore! Beh, adesso non esagerare, venite! Gettando il seme della discordia e provocando la vostra feroce ma legittima reazione! Mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra! Ebbè, a questo punto permettetemi di guidere! Ah! Che punti di forza! Dai bracchi! Degli incapaci! Che hanno mostrato sul campo la loro codardia! Di che cosa dunque mi si accusa? Io ho cercato solo di interpretare le vostre aspirazioni che furono anche quelle del mio grande padre! preparare per voi tifosi un Borgo Rosso nuovo, potente, invincibile! Ecco il punto! Perché ho venduto? Perché voglio comprare! Voglio rinnovare tutto! Allenatore e giocatori! Tutto! Voglio che i bianconeri del Borgo Rosso possano un giorno diventare una squadra di autentici campioni! Sembra di sentire parlare in mezzo! Ecco quello che ho fatto! Se ho sbagliato, io sono qui! Punitemi! Ma se siete d'accordo, rispondete un sì! Sì! Posso contare sulla vostra collaborazione? Sì! Sì! La mia donna di Borgo Rosso Sulla vostra abnegazione? Sì! Sul vostro entusiasmo? Sì! E allora il mio cuore e il vostro dovranno battere forte all'unisono per la grandezza e per le sempre più altavede del nostro Borgo Rosso Fumalco! Oh, 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 Erminia! Bianconeri del Borgo Rosso! Rosso, 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 rosso! Bianconeri del Borgo Rosso! Rosso, rosso, Fumalco! Chi è? Fumalco! 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 Ci risentiamo domani per la tappa alpina che i tifosi italiani attendono con particolare anzia Per il ciclismo Grazie a te E veniamo al calcio Come sapete la campagna acquisti del calcio è in piena attività E noi stiamo appunto per collegarci con Milano In particolare con Hotel Gallia La tradizionale sede della campagna acquisti dei calciatori E qui i presidenti che vanno e vengono I presidenti sono i veri protagonisti Una loro stretta di mano può vedere a volte come un vero contratto Ecco, vedete un gruppo di tifosi in ansiosa attesa di notizie E qui a volte si decide la sorte di un campionato E va, vi aspettavo Fatto buon miaggia, presidente? Buongiorno E questo sarebbe il favoloso Hotel Gallia Lei ha già parlato per il nostro borgonismo Non parla su cotto fa Forse possiamo fare un gran colpo Bene, facciamolo Locatori non posso dirvi molto ma sull'allenatore Ah, c'è la tv, aspettate Questa è l'e nevo, va, solo il cretino che salita Del chi che il tuo rendere, del chi Senti, per favore, prima di mettersi seduta spegni il televisore Non posso più sentire parlare di calcio Mamma, volevo vedere la trasmissione per le forze armate No, 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 spegni per favore Supererà il limite dei 15 miliardi Ma mamma Ma è benito Benito? Ma l'hanno detto E a Luther Gallia Stavo comprando i giocatori Sì, stanno Vendendo Ma se il fa, avanti Andrea, avanti Andrea Sono il presidente del Borgo Rosso Football Club Ma me ne frega niente Il vaga dentro la rompami in ghibari Ciao mamma Veniamo alle ultime notizie Ciao mamma Allora, sotto la fotografia Metti la didascalia che adesso ti hai detto Sì Il professor Benito Fornaciari Metti fra parentesi Il nuovo e dinamico presidente delle zebre bianconere Non va da spese Sì Pur di assicurarsi la collaborazione di un famoso allenatore Colpo grosso del Borgo Rosso Il nuovo allenatore è il famoso italo-peruviano Jose Bonservizi Stavolta sì che ci siamo, eh, Genei? Ah, mi scusi, Bonservizi Chiamalo mister Sì Ma sei sudamericano Come è in portazza? Scusi mister, possiamo essere sicuri degli acquisti, vero? Sì, però Lei mi ha dato calza blanca e dorma tranquillo E i giocatori quando li potrà vedere? Ah, il 15 d'agosto ora sono tutti di vacazione al mare E al mare ci vado anch'io E chi non lascia più questo stregone? Lei si sarà domandato perché ho accettato la direzione di una modesta squadra come il Borgo Rosso Già, perché? Come perché? Voglio fare la rivoluzione La rivoluzione? Non si preoccupa Noi sudamericani abbiamo molto la rivoluzione Ah, e la vuol fare in Italia la rivoluzione? La rivoluzione calzifica Ah, meno male Calzificamento parlando Ecco, vedi quelli Quelli sono Moschino San Carini Bet Ghizzi E il grande Omar Sivori E che fanno qui i giocatori? Vengono in vacanza ogni anno al bello di Ghizzi Ah E scusi mister, ma Lei, Omar Sivori, lo conosce? Seguro? E me lo presenterebbe? Come no? Si Omar! Omar Venacchi! Che fenomeno mister Te presento il presidente del Borgo Rosso Sono molto onorato di conoscerla Molto lieto Veramente molto lieto Come presidente di una piccola squadra di provincia Io non sono abituato all'incontro con i divi del calcio Grazie a stare per piacere Se ti ammilevi una curiosità Omar Ma come mai gli arbitri quando lei giocava lo spalificavano sempre? Buono io credo che sia dovuto alla vivacità di Napoletano Ah Per esempio Loro davano il cornuto all'arbitro E quello se la prendeva sempre con me Buona questa Chi è quello? Chi? Quello E' il grande allenatore di buon servizio Allenatore di che? E' allenatore di calcio De calcio? Si Io non lo conosco Come si è permesso di chiamarlo? Mi scusi infinito Omar Scumetto che Sivolo le ha detto che non me conosce Eh si Mi ha detto proprio che non la conosce Vede? Un mucciaccio li ho tirato su Ma niente me riniega No Non se la prenda mister Il campionato inizia come sapete In questi giorni la sua lunga vigilia Comincia in particolare la stagione dei ritiri Quell'abitudine di preparazione collegiale Alla prossima Benvenuto signor presidente A sta la vista caro mister Eccoli Los mucciaccio Piacere Bravo Francisco Bravo Giuseppe Eccoli il nostro nuovo acquisto Bene Carmelo Luiz Ah scusi mister Ma lei mi aveva detto Giovani, cagliardi, forti Questo non è un po' troppo anziano Eh ma io dicevo giovani Calsisticamente parlando E poi questi Hanno famiglia e poco dinero Perciò hanno la grinta di quelli che hanno fame Los giocatori sono come toreros Si hanno muccio di mer Han paura del toro Claro Clarissimo Muffiano Bravo Vincenzo Bene Sissito Piacere Giovanni Bravo Nicolino Come va? Mario Ecco l'altro acquisto Sergio Bene E il nostro meseggiatore Trinca Cagliardo Ci siamo tutti Manca ciò lo guardava caro Celastino Maria Ah Ugador che non è puntuale Non mi gusta Ma come si è permesso Mister Mister Qui là Chi è? Mi sono fermato a colazione a Ferrara Mia moglie aveva fame Tu sei casato senza dire niente a me Mi sono sposato questa mattina E tu ti sposi prima di iniziare il campionato Hai sorpreso la mia buona fede Lei era al corrente Hai sorpreso la mia buona fede? Se penso io Celestino, Celestino mi hai dato un grande dolore Prometto mister, non lo farò più Non te creo Promessa di caporale Sei da buono? Venga mister, scusi Dica un po' mister Ma Quello Chi è? Celestino Maria Come chi è? Vabbè Celestino Maria Ma chi è? Un giocatore E su quattro giocatori Non ho idea Pure cinque per questa Ma c'ha anche gli occhiali I borghese Quando gioca Mette le lenti a contatto Come Stiles Il mediano dell'Inghilterra Beh Stiles Ma non è un po' troppo grosso Per fare giocatore C'ha la parte Grossissimo Infatti non gioca Ah Non gioca? Non gioca Ma con allenamenti In un agno Lo faccio dimagrire 40 kilos Promesso che diventerà Un campeone Promesso e mantiene mister Promesso e mantengo Muchas gracias Hablo spagnolo Hablo spagnolo Un pochito mister Celestino non mi aveva detto Che si ripartiva subito E di fatti le resta Come sarebbe a dire? Tutti i giocatori Vanno in ritiro Per una quindesina di Dias Le resta con le moglie Degli altri giocatori Magna Beve Dorme Toto pagato dal nostro presidente Todo No est contenta? No 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 è scontenta Ma è scostumata A sta signora Ah ma lei sa che ogni giocatore All'inizio del matrimonio Rende la mitad? Ma allora non deve vedere Quel vitellone neanche in fotografia Mestre siamo pronti? Vengo Vengo Mi permite Mi permite Signor presidente Prego Mi permite Vengo Vamos Ma lo sapete come chiamano i giocatori? Come li chiamano? Per nome Come i brasiliani E beh fare il presidente Con quello stregone È un gioco da ragazzi Vamos amici Di corsa Vamos Gli anconeri del Borgo Rosso Con me È difficile che sia pronta Per la fine dell'anno Io sì Guardi chi viene Signor sindaco Il tembolo del Borgo Rosso La salutano Oh È invecchiato di dieci anni Voleva far lui il presidente E adesso si roda il fegato Doverò Come stai signore? Bene grazie Modio Modio bene a me Ecco io l'ho fatta venire per una cosa molto importante Riguarda Benito? Sì sì Bene E poi poi le spiego adesso meglio strada facendo signora Venga da questa parte per piacere Il nuovo acquisto dei giocatori è costato complessivamente 64 milioni Il presidente dice tanto sono cambiali 64 milioni E inoltre l'allenatore ha preteso 38 milioni anticipati e un contratto di 3 anni La situazione finanziaria comincia a risentirle signora E io che non ne sapevo niente Sì Per telefono mi diceva sempre che tutto andava a perfezione Ha fatto bene a farla venire Sì 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 Ha fatto benissimo Soltanto lei gentile signora può mettere un freno alle pazzie di suo figlio Sa? La squadra è in ritiro col suo teodozio Fortuna che i giocatori sono a dieta Se no ripulirebbero la dispensa in due giorni Ecco adesso lei si può rendere conto da sola Quello è il pullman nuovo E questa è la nuova macchina del presidente 7 milioni e 318 mille lire Dipinta espressamente con i colori sociali delle squadre 7 milioni E 318 mille lire E della sua mercenze che ne ha fatto? Cosa ne hanno fatto gentile signora? L'hanno distrutto a furor di popolo Oh Ma il presidente si era allegrato Perché dice che era più adatto a un prelato Che a un presidente di una società di calza Non avrei dovuto mai lasciare solo mio figlio in baglia di questi forzennati Ma lui dov'è? Tudine Arsdora Chi è? Sora Tudine Cosa c'è? Dov'è il presidente? È in allenamento con il Borgo Rosso L'è là, l'è là che vengono È là, guardiamo signora E il sistema che lei vorrebbe adottare, mister, qual è? L'esercizio fisico più adatto a ciascun nugatore di calza Ah, buono Mamma Mamma Che bella sorpresa, mamma Ma perché non mi hai avvertito che sarebbe venuta? Ma figlio, come ti sei conciato? In tuta di allenamento, mamma Grazie ragioniere di avermela portata Ragazzi, a tavola, a tavola Con le fronte maniere Vieni, mamma Qui, accanto a me Attenti, ragazzi Ringraziamo il Signore per il cibo che anche oggi hai voluto darci E non mancare nel Signore, lo Spirito Santo Amen Seduti Grazie Cosa ci porta di bello la tudina? I turtelen I turtelen Ah, a proposito, mamma Guarda Questa è una dieta che il nostro mister ha imposta alla squadra È una tabella basata sui carboidrati Dai 60 ai 40 punti giornalieri Pensa che è stata studiata scientificamente dalla NASA per gli astronauti Figurati Perché? Devono andare sulla Luna, quelli? Altro che sulla Luna Questo ci manda al Camposanto Pensa, mamma Che i turtelen sono 25 punti Perciò i giocatori devono accontentarsi di mangiarli soltanto con gli occhi Vero, mister? Claro Estos para vosotros No existen Beh, vi farò ridere forse, ma In mezzo a questi ragazzi Scusa, mamma Ma per la prima volta mi sento veramente in famiglia Non so se mi spiego, padre Meglio di quanto tu non credi, mio caro Il tuo povero babbo lo diceva spesso guardando i suoi ragazzi Questa è la mia famiglia Mamma, ho scritto a Monsignor Montanari Gli ho spiegato anche tutte le caratteristiche della mia attività E con quanta serietà io la svolgo Ho dato le dimissioni, mamma Dimissioni? Spero che lui capisca e le accetti Ma non vorrai seppellirti a Borgo Rosso? No, mamma, in Vaticano ero sopolto Qui sono rinato a nuova vita Ma non vedi che altra faccia che c'ho? Ero tutto bianco Celestino, no desesperari No, mira nei platos de los otros Hai finito di comere erba? Va a fare esa situazione Scattaro Anda, anda Io ho fame E non proteste Mamma, guarda Vedi quel bambinone di 130 kg E guarda Paccaro, 22 milioni l'ho pagato 22 milioni? E beh, a Garotti del Cirarina me ne ho offerti 30 e io neanche per 100 glielo do Mi ha promesso il mister che quest'altro anno dimagherirà 40 kg e diventerà un panzer d'attacco formidabile Più di Norda Sai, mamma Il gioco del calcio si è amministrato bene Un investimento di capitale formidabile Il 100% ci si può guadagnare Ombre, sugadores, la commida è finita Inizia il trabacco Anda, anda E arriva il corso Che fortuna essermi assicurato un allenatore così Lo stregone lo chiamano Anda, anda Mira, signora Todina Siento d'ora d'arrosta Si mi permitten Mucha grazia Venite? Ecco qua su Che lui ha il suo sacrario Pensate che il mister si è fatto arrivare dall'Europa E anche dal Sud America Tutte le pubblicazioni sul gioco del calcio Passa le notti a studiare Ed ora amici Ho una sorpresa per voi Et voilà L'abbiamo fatto arrivare apposta dall'Inghilterra Figuratevi Permesso? Ecco adesso io vi mostro come funziona È un mezzo moderno Che permette di programmare a casa le partite Ecco prendiamo tre birillini Che poi sono tre giocatori I nostri attaccanti della Borgo Rosso Bene Chiamiamoli calcisticamente A, B, C A Passa B Che si sposta rapido nella posizione B1 C invece avanza nella posizione C1 Ecco la posizione ideale per tirare in porta Ma temporeggia E poi passa la palla B Che dalla posizione B1 si sposta nella posizione B2 Gabbando gli avversari Passo, tiro, calcio, rete, gol Non è formidabile? Vabbè E gli avversari? Che avversari? Gli avversari devono subire Le dispiace accompagnarmi alla stazione Ma non doveva parlare col presidente? A me il presidente come lo chiama lei non dà più retta Saprò io a chi rivolgermi a Roma Sentirete parlare di me in questo cesso di paese E avviene tutto automaticamente E l'automatismo si ottiene con questi esercizi Volete vedere? Venite Venite Vedete? Servono a coordinare i riflessi muscolari con quelli della psiche Vedete? Venti Tranquillo Lo chiedo Perché io veredo Sacrificio Sforzo Abnegazioni Esta è la vita dell'hombre giocatore Non se preocupe Ribassa il tuo nervio Cierra il pugno Penso a l'estate se viene l'inverno Mister Che me se svegliano Uno Dos Tre Tranquillo Lo chiedo Si accomodino Desidera signore Monsignor Montanari La signora Fornaciari Valli e la nipote Si accomodino Monsignore in questo momento ha un incontro molto importante E' questione di una decina di minuti Precisamente dodici Con permesso Alicia Devi essere decisa con Monsignore Si mamma Gli dirò Zio Dopo vent'anni di fidanzamento Benito deve decidere O la sua squadra di calcio o me Altrimenti io rompo e vado in biazza Molto bene Sitti pensate a giocare Ad arbitrare ci penso io Avete stretto i due Punizione di seconda Via Ma quello Monsignore Tuo zio anche lui Mamma Credo che andrò in biaffra Non doveva lasciarla partire mia madre Ragioniere Mi scusi presidente Ma lei conosce meglio di me e sua madre E non credo che ci sia qualcuno Capazzo di fargli cambiare idea Purtroppo no Se non c'è riuscito mio padre Che con tutto il rispetto era un uomo Lo so ragioniere Non c'è bisogno che me lo ripeta Povera mamma Lei penserà che io sia diventato matto Ma se ne accorgerà Apri tu Sipione Sarà Pierino Ribaldi no? Quello arriva sempre prima di cena Mai dopo Dovrebbe firmarmi questi cambiali presidente A che servono? E' per il rinnovo di quei 18 milioni Scontati al credito agrario Speriamo che ce lo concedano il rinnovo Certo che lo concedano Qui alla signora guardava caro E che vuole? Parlare con lei E falla accomodare in studio Che dicevamo ragioniere? Di trasferire i depositi in un'altra banca Appunto I depositi alla banca agraria Sono esauriti da un pezzo E ci sono tante altre banche Che c'è soltanto il credito agrario Sono momenti difficili presidente Le banche non concedono più prestiti Non fanno più crediti Ragioniere se ne occupi lei Lo sa che io non sono addentro A queste questioni amministrative E se no lei che ci sta a fare? Scusi Io cercherò di fare del mio meglio E vada Sì vada A domani Buonasera signor presidente Buonasera Che bella sorpresa Posso essere le ultime in qualche cosa? Vuole accomodarsi? Una sigaretta? No grazie Lei mi deve scusare Se io lo disturbo a quest'ora Ma non ne posso più Celestino ha detto di rivolgermi a lei Che è così buono E quando l'ha visto? Non l'ho visto Sono stata a tre dossio Ma buon servizio mi ha cacciato via Non me l'ha fatto vedere neanche da lontano Bene Buon servizio Ha fatto il suo dovere Ma si rende conto signora Del danno che può arrecare suo marito Disturbandolo durante la preparazione? Disturbarlo? Sì Ma dica è mio marito o no? Beh Prima di sposare lei Suo marito ha sposato il Borgo Rosso Lo sa? Ah quindi sarebbe bigamo Ah vuol scherzare lei vero? No guardi proprio no sa Anzi le dico di più Se mio marito non fa il marito Io lo denuncio per abbandono di teto coniugale E denuncio anche lei Per sottraussione di persone Suo marito ha firmato un regolare contratto signora Ma nel contratto c'è scritto Che mio marito deve giocare a pallone Non che non deve Lei mi capisce vero? Certo signora Mi rendo conto della sua situazione Ma lei è sposata da pochi giorni Undici giorni E allora signora Faccia finta di non essere sposata E continui a fare la fidanzata Magari Prima di sposarci facevamo l'amore Adesso che siamo sposati non lo facciamo più Tutti i giorni Ah anche di più E beh si riposi signora E poi si renda conto Che non è la sola in questa situazione Pensi alla moglie degli altri Ma che le altre non interessano Io ho 19 anni sa Sciorbole 19 E lei ho 19 anni cosa faceva? Io ce l'ho il tipo signora Oh signor Presidente la prego Mi aiuti lei Mi aiuti Ma cosa vuole che le faccia signora? Vi ha due giorni di permesso a Celestino No mai Su Celestino il Borgo Rosso Punta tutte le sue speranze Questo ragazzo può diventare un grande campione Dipende dalla sua benecazione No oh signora Signora che fa? E che fa? Su No signora non faccia così Si l'aiuto Ma ammazza con la tua pesa Che la patra ha scipione Andiamo signora Si amora perché fa così Si riprenda Si ha forte Con agio Reagisca Non si abbandoni Signora guarda baccaro Non faccia così Che cosa? Che si sente? Non respiro Non respiro Non respira signora guarda baccaro Aria 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 Si signora guarda baccaro Presidente cosa fa? Eh Si è sentita male sai Ne sto praticando la respirazione bocca a bocca L'ho imparato in televisione Ancora? Ancora aria cara? Respirazione bocca a bocca Vedi quante cose si imparano in tv Andiamo bestiuno Borgorosso passatore Due punti Vis Pascoli Borgorosso pareggio Si segura Segura Borgorosso essenzio Vittoria facile Due punti Segura Saline Borgorosso pure Due punti Borgorosso Brighella Due punti Trebbiano Trebbiano Borgorosso Pareggio Perché? Se vince Se vince Il Trebbiano è debole sulla sinistra Se vince di sicuro Due punti Metti due punti Vabbè Vabbè Con Trebbiano si deve vincere Borgorosso Garbino Due punti Segura Segura Se vince Borgorosso Due punti No 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 Esto non è sicuro No no Il Sanluca in casa è un leone Non è sicuro Non è sicuro Segna un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Soprano Borgorosso Cabe Due punti Perché se lo vinciamo Siamo delle schiappe Che vogliamo fare Buonaccio Non vincere Non vincere Tutale 51 punti Evviva Venceremo il nostro Girone ragazzi La promozione si aspetta E noi la convinceremo Bianconeri Del mondo rosso 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 Bianconeri Del mondo rosso 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 Bianconeri L'amiraglio Nelson Prima della battaglia Di Trafalgar Disse ai suoi uomini L'Inghilterra Aspetta Che ognuno di voi Faccia il suo dovere Perciò io vi dico Tutta Borgorosso Aspetta Che ognuno di voi Faccia il suo dovere Andiamo Bruciacios Ammilos dedos Chi non lotta con coraggio Non si merita l'ingaggio Chi non lotta con vigore E' peggior di un traditore Vieni Vamo su Bruciacios Buonaccio 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 Buongiorno Sono il presidente dell'Albano E che vinca il migliore Si è il migliore Borgorosso Buonaccio 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 Ma la difesa Ma la difesa Lo preoccupa Buonaccio Buonaccio Sentirà adesso che musica Si si Adesso attaccano Certo che è difficile giocare con una squadra che non conosce le regole del gioco del calcio Scusi tanto signor presidente Siamo una squadra di poveretti E' questo che impedisce al calcio italiano di progredire Ecco Buonaccio 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 Ma fila qua Non devo sopportare questo Perché tutto ha un limite, vero? Ma vedi che succede? E' colpa della difesa No Shhh Non parlare durante la partita Mi scusi mister ma Da quel che ho capito Allora lei aveva prestabilito che noi avremmo perso Se lo dico presidente E il risultato non mi preoccupa Va bene Scusi mister se la interrompo Però una cosa abbiamo notato in molti Che mentre i nostri erano distrutti dalla fatica Alla fine gli altri erano freschi come rosa Lo confermo Il sangio vi sei già super allenato Mentre la mia teoria è che los giocatorus Deven entrare in forma poco a poco Ma Sarenti mi meraviglia Ma proprio tu che sei medico Ma non lo sai che se i giocatori lo sforzo lo fanno troppo presto Ma poi finisce che ne risentono Esatto Ma santo cielo Uno sforzo che dura un'ora e mezza E una volta alla settimana Eh La cosa più pericolosa è prendere la testa all'inizio del campionato Se diventa la squadra da battir E di conseguenza se crea una tensione spantossa Questo non solo logora i muscoli Logora anche los nervios Ma allora mister Se ho ben capito noi dobbiamo fare il cane e non la lepre Esattamente Perché la lepre finisse in salmì Eh però bisogna pigliarla la lepre per metterla in salmì Scusi mister Mi dica ma Lei non crede che nel secondo tempo si poteva far giocare guardava caro Cosa disse? No dicevo No, no È il mucciaccio non è ancora tonto E poi non dobbiamo scoprire le nostre batterie troppo presto Guardava caro Questo è il nostro lasso nella manica Ciubate Tagliaci Se non era palo era un gol da manuale Magnifico Sì d'accordo ma prendono sempre i pali E questo è di precisione ma se io promito mantengo Il Borgorozzo vencerà la prossima partita Vabbè Vabbè La defensa ha manovrato molto bene Abbiamo perduto solo per un autogol È stata una sfortuna Caro mister Sarà come lei dice Io la stimolo guardi questi giornali Lei non era in giro Ma non sei niente di calcio Lo dicono tutti La defensa ha fatto un solo error purtroppo E abbiamo perso la partita Se no era palo era gol seguro Sesto palo che I gol contano troppo Lo che conto è il gioco della squadra Ma quando comincia la rimonta? No è stesso una squadra che ha bisogno di terreni pesanti Sul pesante si era irresistibile Ci fidiamo di lei mister Ben Ceres mi parola d'ordine Sconfitto in casa anche dalle Celsior Il Borgorosso ha toccato il fondo della classifica La situazione non è più critica È decisamente drammatica I tifosi sono in fermento Che cosa si aspetta? Si domandano i sostenitori della squadra bianconera Per prendere quei provvedimenti Che anche il più sproveduto dei dirigenti Capirebbe che sono non solo Necessari Ma indilazionabili Vero? Che fa? Prova lei? Anche voi? Brave Ma presidente Beh che fate? Anche voi ce l'avete con me? Ho fatto quello che avete voluto no? Volevate i giocatori li ho comprati Volevate lo stregone Cento milioni mi è costato la bossina a Mazzallo È colpa mia se la squadra continua a perdere A chi devo ringraziare? Gli amici di Borgorosso Venito stia a sentire Posso dirle una cosa? Suo padre quando la squadra perdeva Si domandava in che cosa ho sbagliato E trovava la risposta E il rimedio Era un grande presidente suo padre Avrebbe meritato un Inter, un Milan, una Juventus La Roma La Roma? La Roma non se la merita nessuno Senta Erminia, mi faccia il favore Si sieda Mi aiuti Mi dica cosa devo fare Perché io credevo di conoscere il calcio E invece non so niente di niente Questa è la verità Meno si capisce Meglio è Non si tratta di capire il calcio Ma gli uomini Ma che cosa sono i giocatori? Sono i ragazzini E' inutile fargli tanti discorsi Ugno di ferro ci vuole Iniezioni di entusiasmo E di fiducia Suo padre si che sapeva come galvalizzarli Prima della partita E li teneva chiusi a tredozio Come polli nella stia E se quelli si lamentavano Diceva Se avete voglia di fottere Fottetevi il palone E aveva ragione Perché io non so se lei sente la stessa cosa Ma quando il palone entra in rete Uno si sente dentro di se Faccia come faceva suo padre Non dia retta a nessuno Prenda le reti in mano E non risparmi la frusta Mi sente? Sa cosa deve fare? Per noi Per noi Per noi Per noi Per noi E' in arrivi il nostro presidente E' il nostro mecenate Che si tratta con tanta generosità Allegra anche voi ragazzi Mi raccomando Presidente Che sorpresa Si? Ma non credo che sia tanto bella Ragazzi Fuori c'è un pulmo che vi aspetta Vi do 5 minuti di tempo per prepararvi E venire con me Dove vi porto scusi? Nella stia Nella stia Non comprendo Stregone che lei capisce un'ora Ma io me ne frego Vuoi restare di qui signore Sempre a spese mia Si intende? Andiamo ragazzi E se sarà il signor presidente Emanuele il diritto Di offendermi davanti alle moglie Io neanche gli risposto Io vorrei stare la mia ambassata Aspetica stella mare di Stabia lei Quale ambasciata? Al mio consolato Che fate voi? Gli ho dato 5 minuti di tempo E sono già passati 3 Via Nessun se muova Ragazzi Io lo conosco per pronunciare Sono i più di 5 minuti Sono dolore Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Ma una altra volta di rischio Tanto che ci rimetti siamo noi E adesso per vederci al stino Mi tocca aspettare fino a lunedì Noi restiamo qui in clausura Speriamo che duri solo qualche giorno Se perdono preparati pure il vestito da vedova No, remengo anche il calcio Mamma mia che fretta Guarda il ruolo Mi devi resta a partire tu Ma come sei stato? Lei non può trattarmi così Ho un regolare contratto Voglio il mio dinero Allarme agita a forza Devi pagarmi che dal lungo Che senso Potremmo regalarsi E hanno il mio dinero E il mio diritto E il mio diritto Sta bruciando tutto Guardi lei, signor sindaco Ma lui che cosa fa? I giocatori I giocatori cosa fanno? Spaccano la legna Tagliano l'erba Ammucchiano le farsine Ah, li sta rovinando Li tratta forse Non sono dei contadini Ma è da questo Non so mica degli avvocati Non è mica caso di fare dello spirito Sono degli atleti Che il mister ha costruito giorno per giorno Sia fisicamente che psicologicamente Lo sai che se l'idea non fosse di quel pazzo là Come metodo sarebbe tutt'altro che sbagliato? Se tutto il calcio italiano adottasse questo sistema Nelle partite di campionato vedremo molti più gol E si incrementerebbe l'agricoltura Sì, fateli spiritosi voi altri Quelli non seguono più nessuna dieta Ma l'ha detto io il figlio del fattore Mangiano tutto come dei lupi Sì, tagliatelle, capperetti, agnalotti, lasagne Ravioli Tutti i carboidrati Due, trecento punti al giorno Un vero disastro Ma lo sa signor sindaco Non mi ha permesso di controllare i giocatori Ma ha cacciato via Vuol sapere un'altra? Ieri il telefono faccio Dico siccome domenica giochiamo in casa Vengo su che porti i ragazzi a messa Lo sa cosa mi ha risposto? Non importa che si disturbi neverendo Perchè c'è il parroco di Tre Dozio Che la messa la dice benissimo E la messa nuova anche meglio di lei Sì, bisogna portargli via la squadra Prima che lo rovinino completamente no Sarebbe meglio per lei signor sindaco Così il borgo russo l'anno prossimo Lo prende con un boccone di penne Bravo, e mi piglia la squadra A pezzi con dei giocatori svalorizzati Ci dovrebbe fare in fretta A togliere la squadra Dalle mani di quel pazzo E lascia che si frighi nel suo brodo Fra due o tre domeniche al massimo Quello lo cacciano via A fior di popolo Tu hai proprio ragione Tu hai proprio ragione Andiamo con ciò Molto emozionale Mettete la sedia Molto emozionale Mettete la sedia Uomo lo chiede libero Tifo male Eh, per Dio, ma che vuoi? Mi posso spogliare Ma che ti puoi spogliare? Guarda la canna, non lo prendo i coglioni Stai a sedere E' zitto Frighella 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 Dai, dai ragazzi del Borgo Rosso Dai! Marcate l'avversario Energia, violenza No, no, soldati Che fate le belle statuine Perché non entrate sull'uomo? Attaccavoli per Dio Aspettate l'uomo Non si è mai visto questa bianchina Mai Manchi di chiamare per sito d'allarme Un incitamento per me E' una partita di calcio E' una corrida Una corrida Ma che Va bene, basta, ho capito Poi si lamentano se non gli dice Cornuti Andiamo con Forza E lasciala Non innamorarti della palla Cerca di passare in profondità Ma perché temporeggiano Perché non scattano di più E per Dio dovevi centrare Dai, sfogliati che ti fa centrare Corvite Vai 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 Ecco 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 il sistema tattico Ehi, hai visto che roba Probe da matti Santini non ha mai scendato neanche da strugliere Lo vede cosa succede quando si vede un po' così? Segnano anche i castiti E' già Noi, passa la palla poi, azione Scatta in avanti Due Due, due Non incollarti la palla Basta E' già No 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 Spagamani Questo mondo deve essere veramente uno strazio proprio. Sì, però strazio, uno strazio, stiamo vincendo. Come ti vuoi scherzare? Conto uno strazio vinceremmo anche i ragazzini di loro tosta. Voi ragazzi del Borgo Rosso, dategli addosso, spezzategli le gambe. Hanno capito, lo schema funziona, andate l'attacco. Dai, dai. E da oggi per ogni vittoria il premio sarà raddoppiato. Non mi ringraziate, sono io che ringrazio voi. Felice notte ragazzi, dormite sereni, distendete i vostri nervi, rilasciatevi. E se avete voglia di fottere, fottetevi il pallone. Sognate, sognate soltanto di odiare l'avversario. Chi si estranea dalla lotta, è un figlio di una mignotta. Buonanotte. Danone, vai, c'è tua moglie che ti aspetta. Vado. Bella, cara. Ciao, amore. Oh, ciao, cara. Oddio, la vacca. Chi va là? Oh, mamma mia. È il presidente, scampo. Vai via, vacca. Chi c'è qui? Sono io, presidente. Sono la signora Zanon. Brava, signora Zanon. Avevo bisogno di parlare con mio marito. Poteva telefonarvi, no? Sa, per telefono certe cose non si può dirle. E soprattutto non si possono fare, vero? Signor presidente, mi parlo anche a nome delle altre mogli. Gli abbiamo diritto anche noi di festeggiare la vittoria. Signora, i giocatori a quest'ora devono dormire tra le braccia di Morfeo, Aio. E non tra quelle delle mogli. E fra quelle delle mogli? Ci metta un orsacchiotto. Lei mi prende per un cinico, vero, signora? No. Io sono il presidente. Come tale devo imporre alla squadra una disciplina di ferro per la gloria dei giocatori, vostri mari. Ma come uomo, sono pronta a qualunque sacrificio. Per la pace delle mogli. Me lo aveva dito la signora Guardavaccaro. Che l'Elas è così gentile e cortese. Solo questo le ha detto? Finalmente una vittoria. Viene il Porto Rosso! Porto Rosso! Porto Rosso! Senti come applaudono, imbecilli! Ti brucia che hanno vinto anche senza il tuo stregone. Sentiamo Gianni Brera. Prima di tutto io non sono Gianni Brera. Sono uno sportivo ed un onesto cronista. E poi vi dico che noi dovremo tutti quanti piangere sulle sorti della nostra squadra abbandonata nelle mani di un maniaco incompetente. C'è un culo, un culo che fa schifo, mai visto! Quanto ha ottenuto? 87 milioni. Ah, bene! 30 milioni a 4 mesi data. La ringrazio sentitamente. Vale, pare! Ossequio a papà. Presenterò. La cassina di Tredazia, 17 milioni. L'ipoteca sui muri della cantina e sui due piani della casa, 21 milioni e mezzo. Bene, ragioniere. Compili lei gli effetti, io le quattro ho gli allenamenti. Ci vediamo questa sera a casa. Va bene, professor. Lo sai che tu, no? Quello lì finisce l'ospizio. Mister, vorrei sapere da lei una cosa. Tutti questi successi si devono attribuire alla fortuna o no? Sicuro. Dopo il periodo di Iello quando c'ero io dovevo venire il periodo del culo. Sicuro, sicuro. E lui si attribuisce tutti i meriti delle vittorie. E lo rubo a me, ma io prenderò tutto il di vero. Avanti. Questo è l'atto di comparizione. Ma il professore non c'è adesso. Lo lascio a lei. Nome? Quintino, ragioniere Quintino Braglia. Appena viene il professore rifererà. A tempo, 48 ore. Buongiorno. Avete soltanto 5 minuti per pareggiare. Solta l'attacco! Bigliacchi! Tre vittorie di pareggi. Potiamo vincere il girone? Mi meraviglio in sommo grado come dei competenti come dite di essere possono menar vanto per certi successi estemporanei. Saranno anche temporanei, ma 8 punti in 5 partite sono 8 punti. Eh, ma se in 5 partite avete segnato 6 gol. Avete. Ma che sei, bulgaro? 8 sono, non 6. 6 sono, uno è stato un half goal e l'altro su calcio di rigore. Perché il calcio di rigore l'ha già solo l'arbitro? No, se vogliamo parlare da sportivi dovete riconoscere che i pareggi e le vittorie sono dovuti a una serie di circostanze favorevoli e difficilmente ripetibili. Ma chi se ne frega, l'importante è vincere. Eh no, caro Saccice, tu stai pisciando fuori dell'orinale. Con il sistema tattico inventato da quel mettecatto non c'è giocatore che sappia qual è il suo ruolo. È il gioco moderno. Ma non dire castronerie, va là! Ad ogni modo domenica nel derby contro il Sangiovese vedremo chi ha la piazza. Lo vedremo sì, purtroppo. Domenica sera piangerete lacrime amare. Ma va là! La verità è che il Presidente vi ha trattato come tante pezze da piedi. Voi e quel buffone del vostro stregone. Eccoci signora e miei ragazzi Veste e brutto saluto Avanti ragazzi Daglielo piede Daglielo piede Daglielo piede Dammelo piede Daglielo piede Dammelo piede Dammela a me Dammela a me Dammelo piede Dammelo piede Dammela a crocci Dagliela a crocci Dammela a crocci Dagliela a crocci Andiamo Fratto da dentro Spragno il limone Sgozzo la polla Taglio furtura Chiude buona la porta Se no esce lo certo Ma l'occhio non me venga Taranto la buce di culo Da rete Ma l'occhio non me venga Taranto la buce di culo E venga Saladino da bere Dunque Il padre Che era attivo Dalla testa e i piedi E che per via dell'infarto Gli avevano proibito la carne Lui mangiava le bistecche E soltanto due volte l'anno No? Una volta il Vede di Santo E un'altra volta il giorno Della sensuale Dico il padre Prima del derby con San Giolese Ha sempre portato la squadra Alla Madonna di Pratobello E abbiamo sempre vinto È vero o no? Il figlio Cresciuto dentro il Vaticano Volete sapere dove ha portato la squadra? Al santuario del Monticino Dalle monache del Poggio Dai frati Capucini Dagli Zingari Nel fosso della morte Andate a fare gli scongiuri Sportivi Il vostro tonico è Fernet Branca Fernet Branca di gestimola Sportivi Entrate nel giro di gancia americano Gancia americanissimo Lo so ragazzi Che voi farete di tutto Per portare alla vittoria La nostra gloriosa Borgorosso E so anche Che non avete bisogno Di sollecitazioni diciamo così economiche Ma Non vi dispiacerà sapere Che in caso di vittoria Qui È pronto per voi Un milioncino Senti come son contento Occhialo, salantua Ma l'occhio non me venga Salantua, 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 salantua Ma l'occhio non me venga Salantua, 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 salantua Salantua, salantua, salantua Attenzione, attenzione La partita sta per cominciare Sono esattamente le 14.58 Ora precisa dell'orologio Vulova Acquino Ricordate che al volto di un uomo Che sa quello che vuole C'è sempre un blova L'orologio dell'era scottiale Fai il triangolo, continua l'azione lungo la linea Attenta all'avversario Passa l'ala Ecco, bravo Così fai la discenza Incollati la palla Torni al suo posto Sarà costruita di spelle Sì signora Su, verbo Sono perfettamente d'accordo Torni in panchina e usarsi più Ha capito? Sto andando Sì signora Sarai Sì signora Mosì Sì signora Sì signora Sì signora Sì signora Che È No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Ecco fatto, presidente! E oggi è l'avversario! Passate la palla a Celestino! Avevo ragione io! No, 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 no! No, 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 no! Io sono in presidenza! Io sono in presidenza! Io appello a voi, ma perché dobbiamo portare? No! 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 Che fate? Fermatevi! No! No! Corrici, no! Fermatevi! No! 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 Corrici, aspettate! Che fate? Siate buoni! Siete impazziti! Aspettate, si squalificano! Ascoltatevi, fatevi retto amici, ci squalificano, è la fine, è la fine del Porco Rosso, vi prego. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, 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 noi. Risarcimento dei danni a San Giovese per danneggiamenti al pullman che trasportava la squadra. Risarcimento dei danni all'arbitro Donzelli che ha perduto anche l'orologio. La situazione è grave, starei per dire drammatica e non mi riferisco soltanto alla parte economico-sportiva o le multe, ai danni, al fatto che gli incassi della squadra che giochi in campo neutro non riusciranno neanche a coprire le spese dei trasferti. Senza contare il morale dei giocatori. Ma me ne frega assai dei giocatori. Scusi, monsignore. Il professore ha firmato più di cento milioni di cambiari. Ora, finché le cambiagliano nelle mani delle banche, beh, si poteva rinnovare. Ma da quando il commendatore Bulgarelli le ha rastrellate quasi tutte, qui o si paga o si falisse. Capisce, monsignore? A questo siamo arrivati con le pazzie di mio figlio. E che cosa propone questo commendatore Bulgarelli? Il commendatore Bulgarelli si è dimostrato molto comprensivo anche per la vecchia amicizia che lo legava al defunto presidente. Lasci stare i preamboli e venga al sodo. Il commendatore propone una decurtazione del 20% e il rinnovo di tutte le cambiali. Si è venuto a cedere la presidenza. Lei è una ferita, è un vecchio sportavano cosa. Ma come si permette lei? Non sono cose che vi riguardano. Ma certo, sono cose che non si riguardano. Siamo in questa casa soltanto da 30 anni. Comandano loro che sono arrivati da tre giorni. Mi rivolgo a lei, monsignore. Cerchi di convincere mio figlio. E gli dica che se rifiuta, lo faccio interdire. È un complotto. Benito, aprimi, sono io, monsignor Montanari. E io sono il presidente Fornaciari. Chi si crede di essere lei? Io non accetto imposizioni da nessuno, nemmeno dal Papa. Ma io non voglio importi niente. Voglio soltanto parlarti, due chiacchiere così, trasportivi. No, io non parlo con nessuno. Cerca di ragionare, caro figliolo. Io non sono il suo figliolo. Sono figlio di mio padre. La presidenza del Borgo Rosso io non accetto. Glielo dico a mia madre che se lo betta bene in testa. Ma tormentata per 30 anni, ora basta. Il Borgo Rosso è mio, 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 mio. Io sono il presidente. Benito, noi avremmo deciso di... Mentre voi state discutendo, fuori, ci stanno ammazzando. Ammazzando. Benito, dove vai? Fermati, Benito. 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 Salciccio si brucia, si brucia come un mondo. Non va da, fatta a casa. Mi piace, mi piace. Fermati, vai. Però... Salciccio l'hai fatto. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto, Salciccia? Lasciatemi. Voglio bruciare anche io. Perché ti devi andare? Ci hai creduto, eh, Romano? Credi che mi bruciavo? Noi ti bruciamo a te se non te ne vai. Avrete il presidente che meritate. Tutti. Ma andiamo via. Torniamo a Roma. Oh, ragazzi, eccolo, sta andando via. Ora è stata via, è spattata. Ecco qua, è spattata. Vai via. Vai via. E non tornare più a vita. E non tornare più a casa. È vero che lascio la presidenza del bordo rosa? Non solo quella, tutto lascio. Non sentirete mai più parlare di me. Suo padre non si sarebbe mai areso. Ma suo padre era un uomo che sapeva quello che voleva. Lei non è degno di essere suo figlio. Ma se siete tutti, consiglio di me, tutti. E questo non è vero, signor Presidente. Questa mattina, quando mi avevo saputo che lei rinunciava alla presidenza, abbiamo pianto. Non si arrenda, presidente. Difenda il borgo rosso. Bianco neri del borgo rosso, 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 rosso. Bianco neri del borgo rosso, 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 rosso. Bianco neri del borgo rosso, rosso, rosso. Signor Almiglia, il presidente va via. Non credo. Bianco neri del borgo rosso, 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 rosso. Bianco neri del borgo rosso. Amici del consiglio, soci e socie del borgo rosso, football club. Un'ora grave batte sul campanile della storia della nostra gloriosa società. Voi tutti siete stati testimoni di quanto è accaduto dopo la dolorosa scomparsa del nostro grande presidente, alla cui memoria vi invito ad osservare un minuto di religioso silenzio. Non si vede nessuno. Dai, dai! Seduto. Il professor Benito, per la sua incompetenza e di suoi errati sistemi di allenamento, per i suoi cervellotici schemi di gioco, ha portato il borgo rosso football club in una situazione drammatica. Pertanto, pertanto, il consiglio, sia pure a malicuore, ha chiesto ed ottenuto le dimissioni dell'attuale presidente, dottor Benito Fornaciari-Valli. Silenzio. Il consiglio, certo di interpretare i voti di tutti i soci, oggi ha offerto la presidenza al nostro sindaco, il comendatore Aristide Bulgarelli. Silenzio. Silenzio. Vogliamo di Edipo, di Edipo Vienci bene Amici del consiglio, soci e soci del Borgo Rosso Football Club Voi tutti conoscete la mia modestia Bella faccia di Ghirta Ho citato lungo prima di accettare la pesante eredità che mi è stata offerta Non arriva La presidenza del Borgo Rosso Football Club Va fuori Così come ho risanato il bilancio del Comune Aumentando l'età, sì E vendendo sui forzi al Comune Dandone la vostra generosità Gli edopererò a risanare il bilancio del Borgo Rosso Football Club Bravo, bravo, bravissimo Non ci resta che passare alla votazione per alzata di mano Chi è favorevole alla nomina del Comendatore Aristide Bulgarelli A presidente del Borgo Rosso Football Club Alzi la mano Un momento Cosa c'è? C'è che vorrei parlare anch'io Credo di averne diritto Sono un socio a Vitalizia e benemerita Sì, sì, parli pure, ma sia breve per favore Dunque, io volevo dire Se risaliamo alle origini del Borgo Rosso Se deve dire qualcosa sia succinta, ha capito? Sì, ho capito E ho capito anche che lei e qualcun altro Vorreste che io non parlassi? Non farlo finire in Ermiglia, lascia su te Eccolo Voi volesse votare? Sì, avete ragione Finito, sta arrivando, è qui con la Maserati Raccontacelo un'altra volta Bene, ho finito E allora possiamo passare alla votazione Chi è d'accordo, alzi la mano Amici Sono io Permettetemi Voglio chiedervi scusa per questa mia interruzione Scusatemi Uomini e donne di Borgo Rosso Per questo mio ritardo all'assemblea straordinaria E anche a lei, signor sindaco Mi scusi Io ero partito E non volevo più tornare Ma poi ho riflettuto e mi sono detto Che forse la mia assenza Sarebbe stata da voi interpretata Come un atto di diffidenza e di rancore No, amici Niente di tutto questo Voi lo sapete Io ho sempre amato la squadra del Borgo Rosso Football Club Con tutto il mio cuore E viva il Presidente! E se ho mancato, amici È stato per eccesso d'amore Ed ora, amici miei Prima di dirvi addio per sempre Permettetemi Di offrirvi un piccolo dono E sono certo che lo gradirete Da quei grandi ed esperti sportivi che siete Per giocare con noi E riportare il glorioso Borgo Rosso Alle sfolgoranti vittorie Ho fatto tornare dall'America del Sud Vivo, vegeto, in carne ed ossa A Marsivori! Grazie al vostro Presidente Sono nuovamente in Italia Felice De giocare davanti a questo pubblico Che tanto amo E che è il più generoso del mondo E da oggi, amici A Marsivori È di proprietà del Borgo Rosso Football Club È questo, amici Il mio regalo Prima di dirvi addio Grazie 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 Non ci siete Ma che sento che sento con torna Questa bufonata Me la pagherete cara E non presentate il tuo municipio E non venite più a mangiare la chiesa mia E tutti voi Per quella cambiare Il Galera vi mando Il Galera tutti quanti È la rovina È la rovina Grazie 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 Chiudi l'inventario E procediamo al sigillo delle porte Medaglione Raffigurante Federico Barbarossa Valore totale Facciamo 40.000 lire Posso fare? Pulizia di sopra? Faccia pure Noi continuiamo il pignoramento Va bene Gabbia Antica Senza uccello 30.000 lire Andate via Andate via È chiuso per fallimento Vendita giudiziaria 24 ettari di terreno Coltivato a vigna La azienda vinicola è fallita Pullman è la Maserati Da casa con tutti i mobili Tutto sequestrato Solo il letto Ti è rimasto Io l'ho sempre detto Che ero un pazzo Come suo padre Del resto Guardate il Borgosso 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 Dice che il Borgosso Contrariamente a quello che fanno tutte le squadre italiane Compresa la nazionale e i campionati del mondo Giocherà per fare i gol E non per farse il fare Viva gli Anzolani Viva il Borgosso Viva la Romagna A sedere Andate Passa la vittoria Però pare che qui a Sivoli sia ancora molto forte Un vero castigo di Dio Non nominare i nomi di Dio in vano Va per fottere Ieri in allenamento ha dato spettacolo Ha segnato tre reti Ma si è proprio vero Ora sapete cosa vi dico Che uno spettacolo così non me lo perdo Benito Aspetta mi vengo giro Ale Ragazzi Ieri ho ricevuto un telegramma da un'alta personalità del Vaticano Monsignor Montanari Ecco il testo Ti disereto Lascio tutto ai pallottini Non sono più tua madre Scusate ragazzi Ho sbagliato il telegramma Benito Ci sono anch'io Sono con te Stai voglia di un fritto Non con me O i bianconeri del Porto Rosso Siamo con te Benito Con te E che borgonazzo Ragazzi Ragazzi Ecco il telegramma Ottenuta benedizione Santo Padre tua diretta squadra Punto Unisco Umilmente alla sua benedizione La mia Unisco Il pubol È sempre il gioco più bel Faccio il presidente La mia sola vera passione è formare un grande squadrone e il Borgo Rosso sarà sempre più degno del mio papà. Su andiamo tutti i bordelli, ne faremo vedere delle belle, contro il Borgo Rosso se la fanno addosso, se con neve e pioggia col sol tu sei pronto segna un gol. Con quel gol si deciderà la promozione in serie A. Su andiamo tutti i bordelli, il Burgo Rosso è sempre gioco di me, lui è il Presidente e è l'ora più urgente. Su andiamo in fondo a noi, usi il nostro senso, se non, 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 quello si deciderà la promozione in serie A. Grazie a tutti